Ciao a tutti i criptomani, in questo video vi dico due parole sul nuovo aggiornamento del Ledger Nano S, l'hardware wallet per le criptovalute. Allora, innanzitutto vi dico subito che vi sconsiglio vivamente di fare l'aggiornamento e poi capirete perché, tuttavia vi parlo delle nuove funzionalità. Allora, dalle release note emergono delle cose veramente interessanti e del motivo per il quale ho provato a fare l'aggiornamento. E prima di tutto è il modo in cui vengono gestite le applicazioni che vengono installate sull'hardware wallet. Passando alla versione 1.4.1 si avrà la possibilità di installare molte più applicazioni di quelle che si possono installare adesso e qui vengono dichiarato che fino a 18 applicazioni. Bene, poi vabbè viene cambiato il firmware, c'è la possibilità di schiacciare i tasti per rafforzare la modalità, diciamo, screensaver in standby. E vabbè, altri miglioramenti di questo tipo e ovviamente si possono installare più applicazioni su questo ledger perché viene cambiato, diciamo, la struttura delle applicazioni dell'hardware wallet. Qui ci sono tutti i dettagli, i nuovi tipi di criptografia supportati dal firmware, eccetera. Perché dico che sconsiglio l'aggiornamento? Io ho provato a fare la procedura che appunto è quella anche consigliata da loro, tuttavia ci sono delle parti che non sempre reagiscono nel modo in cui noi ci possiamo aspettare. Comunque, io ripeto, vi sconsiglio di farla, ma se proprio volete provare dovete avere appunto il ledger manager installato, vi verrà, uscirà fuori un pop-up e a quel punto lì seguite in parte la guida che vi viene detta. E appunto la prima parte è abbastanza ovvia, nel senso che attaccate il dispositivo, lo sbloccate, qui vi esce fuori un pop-up che vi dice che c'è la nuova versione e a questo punto viene scaricato il firmware e viene, diciamo, installato. Qui dovete poi confermare sul dispositivo che accettate l'accesso del ledger manager e a questo punto c'è questo install in firmware e quello che accade è che appunto per qualche ragione non riesce a installare questo firmware. e tuttavia facendo partire l'hardware wallet con il tasto premuto vicino all'USB c'è la possibilità di recuperare questa installazione e andare avanti. Tuttavia questa parte qua è quella che mi ha creato più problemi e vi consiglio prima di fare questa installazione che vi sconsiglio di vedere effettivamente sul canale Reddit del ledger perché appunto escono fuori errori diversi, c'è la possibilità appunto di vedere nel log pare che ci siano effettivamente dei bug e quindi vi consiglio di seguire il canale Reddit prima di provare questa installazione. Tuttavia appunto qua potete riprendere questa installazione però nel mio caso io ho guardato un po' i log non pare ci siano degli errori o verso il server ledger oppure altri problemi di questo tipo e quindi vi sconsiglio vivamente di fare questa operazione. Tuttavia quando andate avanti vi esce fuori un'altra conferma dovrebbe uscire che è la stessa che vedete nell'applicazione quindi a questo punto qui state ripristinando il firmware vecchio con quello nuovo e a questo punto entrando nuovamente nel ledger dovreste vedere appunto la nuova versione che è appunto quindi sotto settings device dovreste vedere la nuova versione 1.4.1 e quindi anche l'altro aggiornamento del MCU e che dire l'aggiornamento sarebbe molto interessante tuttavia secondo me ci sono ancora delle limitazioni per fare questo aggiornamento ed è per questo che ve lo sconsiglio comunque volevo fare questo video perché effettivamente se si possono installare più applicazioni su ledger contemporaneamente è sicuramente una cosa positiva per adesso vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao